Temperatura impicchiata nell'Aretino, una grandinata ha interessato il territorio nella tarda mattinata. Le foto e i video che ci arrivano dalla chat di Arezzo Meteo immortalano il fenomeno in tutti gli angoli della provincia Aretina. Nessun danno per la grandine, ma il forte vento in città ha fatto cadere sulla sede stradale un grosso albero in Viale Santa Margherita, a pochi passi, da Porta San Clemente. L'albero è caduto sopra un'auto con all'interno una persona che per fortuna è uscita indenne. Le temperature sono scese in picchiata dai 22 gradi del primo dicembre ai 14 di oggi e nelle prossime ore scenderanno ancora al di sotto dei 10 gradi per la massima. Per la giornata di domenica 3 dicembre, infatti, secondo Arezzo Meteo, il meteo dovrebbe essere decisamente più clemente, con qualche annuvolamento sulle aree orientali e sulle zone che guardano la Romagna. Qualche nevicata sarà possibile nella notte oltre i 1000 metri. Temperature in netto calo anche per la giornata di lunedì, ancora una giornata piuttosto fredda con valori massimi sotto i 10 gradi.